La soddisfazione per l'emendamento che istituisce un fondo di solidarietà per le vittime del risparmio tradito nel crack delle popolari vendete è parecchia. Ma le associazioni dei risparmiatori non si fermano, fanno il punto della situazione e pensano alle prossime mosse perché la strada da percorrere rimane ancora parecchia. Questo emendamento sta prendendo il via in questo momento, restano da definire dettagli tecnici ma mi sembra un segnale politicamente molto interessante. L'opinione è di non tralasciare alcuna possibilità dalla costituzione di parte civile nei processi penali alla messa in mora di Banca Italia, Consob e società di revisione. Noi intendiamo che gli risparmiatori che hanno intrappolato negli aumenti di capitale del 2013 e 2014, che sono grosso modo 2,5 miliardi tra le due banche, sono a nostro avviso nella condizione di avere indietro tutto perché quello che emerge anche dall'inchiesta parlamentare è stata proprio una truffa a mano armata e quindi su quelli il risparmiamento è totale. Per quelli che invece hanno comprato le azioni prime del 2007 o le hanno ricevute in identità, si può avere il problema di valutare esattamente il danno tra il costo che hanno sostituito per quell'investimento e quello che hanno ricevuto. C'è anche un'ultima preoccupazione, anche sulla base dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta, ed è che eventi del genere non si verificano più. Io non sono affatto d'accordo per l'autonomia della Banca d'Italia, secondo me è il Ministero dell'Economia che dovrebbe controllare le banche, non che i controllati siano padroni dei controllori.